Due giorni intensi di eventi e attività firmata a XAIN hanno reso protagonista la città di Roma grazie al Cali Filippino, l'antico metodo di combattimento mutuato dal meraviglioso popolo asiatico. La prima giornata ha visto partecipare gli istruttori provenienti da diverse regioni italiane, impegnate in uno stage tecnico a guida del maestro Andrea Rollo, con la supervisione del grande maestro filippino a Ortiziano Miranda Junior. Una sessione di studio mirato a ridurre i tempi di reazione nell'applicazione di tecniche difensive e offensive, con armi bianche tipiche del sistema Cali-Sugada Miranda System. La seconda giornata ha focalizzato l'attenzione alla preparazione degli agonisti, che si sono concentrati sullo stick fighting e il knife fighting sportivo. Una sessione di lavoro divisa in due fasi, dapprima lo studio tecnico con il campione europeo Niccolò Ragalmuto, conosciuto al grande pubblico come il Detalia Vampire, e successivamente lo svolgimento di tanto sparing. Grande la soddisfazione per l'organizzatore dell'evento. La seconda giornata ha focalizzato l'organizzatore dell'evento.